Promettevano investimenti ad alto e immediato rendimento, ma i soldi raccolti dai sedicenti promotori finanziari venivano investiti in altre attività oppure dirottati su conti all'estero. C'è anche un vicentino di 31 anni residente in città tra i finti promotori arrestati nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Pordenone. Per lui sono scattati i domiciliari. Una truffa milionaria con almeno 3.000 risparmiatori in tutto il nord-est finiti nella rete di questa banda criminale che in due anni aveva raccolto abusivamente 72 milioni di euro rimborsati ai finanziatori soltanto per un terzo. Nella rete dei farsi promotori sono finiti in tanti imprenditori, pensionati, lavoratori che hanno investito i loro risparmi. I reati di cui i sei indagati dovranno rispondere sono quelli di associazione a delinquere, truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di gestione del risparmio e autoriciclaggio.